Allora, Simo, fino alla fine ci è mancato un attimo per arrivare al traguardo, proprio due centesimi per fare l'euro. Ci abbiamo creduto fino all'ultimo, peccato, perché loro sono una grossissima squadra, ma noi abbiamo dimostrato di essere sul pezzo stasera. Guarda, io penso che abbiamo perso contro loro agli ultimi minuti e mezzo. Sbagliando quattro canestri da sotto, libere, e loro facendoli. Una bomba annullata di Marica per un fallo in attacco. Loro sono venuti qua, bomba fatta. Tante piccole cose che ci hanno portato a perdere oggi. Ma io voglio che le mie ragazze capiscano che noi ce la siamo giocata con le migliori, perché con Bologna abbiamo perso di poco. Con Valdarno abbiamo perso lo scadere e con Empoli le abbiamo tenute lì per 38 minuti, nonostante il meno 9. Abbiamo fatto l'inizio terzo quarto, incredibile. Bellissimo, è vero. Quella convinzione lì dobbiamo averla tutte le partite, perché noi possiamo fare cose buone. Noi siamo più forti di quello che crediamo di essere e vuol dire tanto. Quindi, bravi loro, sono bravi, si sa, sono primi in classifica, c'è un motivo. Niente, io sono contenta, vado a fare il Natale, passare un buon Natale, contenta della mia squadra e contenta di quello che abbiamo fatto fino adesso, assolutamente. Quindi, buon Natale a tutti. Grazie. E poi vi aspettiamo l'anno nuovo. Con sempre più convinzione che noi ci siamo in questo campionato e abbiamo dimostrato di esserci. Grazie ancora a voi perché ci state facendo passare un bellissimo campionato, soprattutto per noi tifosi. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ciao.